Questo slogan identifica il volere del comitato giù le mani dalle menze, vogliamo che venga abolito il progetto della supermenza nel comune di Arezzo e vogliamo tenere in piedi tutte le cucine esistenti e riaprire quelle chiuse nel comune di Arezzo all'interno delle scuole. Per il bene di tutti e non per il bene di tanti, con questo slogan il movimento giù le mani dalle menze, i genitori dei bambini che frequentano le scuole comunali di Arezzo vogliono mandare un messaggio forte e chiaro all'assessore Lucia Tanti. Il centro unico di cottura per tutte le menze scolastiche del comune è un progetto che deve essere accantonato non solo sospeso. Una posizione che viene condivisa anche da alcune insegnanti. Sì certo, sicuramente anche per noi il discorso delle menze è importante comunque e quindi ci fa piacere tutte queste iniziative, credo che avere delle menze nei vari punti anche vicino alle scuole sia una cosa importante comunque. I genitori chiedono un altro incontro all'assessore Tanti e soprattutto la risposta al documento già inviato all'amministrazione comunale. I prossimi passi saranno sicuramente una raccolta firme dove raccoglieremo le firme tutti i genitori, parenti, anche semplici cittadini d'accordo come noi contro il centro unico di cottura. Avevamo intenzione di fare una presenza al prossimo consiglio comunale. Ecco, il movimento si costituirà anche da un punto di vista giuridico? Sì, sicuramente sì, si costituirà a breve e ufficialmente. Quindi diventerà un soggetto con cui il comune dovrà interloquire? Esatto, esatto.